Mi sono trovato in mezzo in questa situazione, ecco, ma mi sono volontariamente io, cos'è? Beh, vado a fare un giro anch'io. Io ancora, insomma, sono, come si dice, forte, mai meno. Stanno potendo da bene dell'inferno. Io conosco il nonno così, conosco il nonno, come conosco il cinese, come conosco... L'inferenza prende la mia posizione in merito alle munizioni e valutare bene se queste munizioni sono da me, sono da caccia o sono da... Che munizioni sono? Ma da caccia, sono... cartucce da caccia, insomma, che...